Siamo al terzo appuntamento di questa rassegna che il Comune di Epsi ha voluto organizzare diciamo in qualche modo si sta giornalizzando l'offerta culturale di una città che chiaramente durante l'estate è protagonista anche della Regione per le iniziative che fa, che organizza e dopo i due appuntamenti precedenti oggi è una giornata molto speciale perché abbiamo il piacere di avere una personalità veramente del nostro Paese e per la sua presenza qui devo ringraziare il Comune di Vieste nella persona del Sindaco Nobiletti, l'assessore alla cultura a Starace, per l'ospitalità Mauro Palma e il Teatro e tutto lo staff dell'Associazione Nuova di Arma, quindi Maria Candeno, Pietro Conte, tutti coloro che lavorano dietro le printe non è facile organizzare eventi come questi. Do la parola al Sindaco per un breve saluto. Buongiorno a tutti, ringrazio a tutti di essere presenti questa mattina, ringrazio anche l'autorità che è presente, il Prefetto sta per rientrare insieme al Comandante Provinciale dei Carabinieri tutte le tre forze dell'Ordine che sono qui stamattina. Di solito non faccio interventi durante questo tipo di manifestazioni perché lascio spazio agli artisti e in questo caso al Genone, il maestro Genone e faccio questo intervento proprio perché alla luce anche dell'ospite prestigioso che abbiamo stamattina il procuratore Gratteri e anche in considerazione di quello che è successo nei giorni scorsi ho sentito il bisogno di parlare ai miei concittadini. Lo so, noi stiamo, per l'ennesima volta abbiamo assistito a questo fatto di sangue che sussegue a un altro episodio successo a settembre. So che è difficile, però non dobbiamo perdere assolutamente la speranza. E questo ve lo dico perché anche, se ricordate, nel 2008, gli anni tra il 2008 e il 2011 abbiamo vissuto dei momenti simili, forse anche peggiori. avevamo attentati tutte le sere, ci sono stati degli obicini, sembra un po' di rivivere quegli anni. Ma in quegli anni, lo dico perché mi ho fatto parte e mi sento ancora di farne parte, un gruppo di cittadini ha fatto nascere l'associazione antilagri. Ed è proprio questo, solo che dico, la lotta alla mafia non può essere relegata, non può essere affidata solamente alle istituzioni. Le istituzioni intese in stretto senso, cioè mi riferisco alle forze dell'ordine e solo alla magistratura. La lotta alla mafia la dobbiamo fare tutti, tutti i cittadini. Quando è il cielo, tutti quanti, nel nostro piccolo, che può essere un discorso culturale, cioè di insegnare ai propri figli come bisogna comportarsi nella vita, oppure di non scegliere a patti con il delinquente di Turi, o collaborare, chi ha visto collaborare, chi sa parlare, quando riusciremo a trasmettere questo messaggio culturale, allora sì che potremo finalmente sconfiggere la mafia. Naturalmente, approfitto che c'è il dottor Grattieri, la nostra mafia si connuta per essere molto simile all'andradia della calabriza. Quello che è mancato negli anni scorsi è che in questo momento sia con la nascita dell'associazione anti-racket, sia con l'attività che sta svolgendo questa amministrazione, quella di portare proprio il nostro fenomeno, la nostra mafia diventi una questione di livello nazionale. Solo così riusciremo ad avere la giusta attenzione. E in questo senso stiamo procedendo unitamente al progetto di Foggia a sollecitare una maggiore presenza sul territorio delle forze dell'Orbit e soprattutto a un salto di qualità nell'attività dell'intelligenza. Però, volevo ricordare che solo attraverso l'unione di tutti, solo attraverso la collaborazione attiva di tutta la città e di tutte le genti del Gargano, solo così riusciremo a sconfiggere la mafia. Io sono sicuro di questo. Sono sicuro che a breve avremo le risposte a cui tutti stanno aspettando e sono sicuro che tutti insieme riusciremo a sconfiggere una volta per sempre la mafia. Parliamo di Padrini e Padroni che è il dundicesimo libro di Nicola Grattelli che è il procuratore della Repubblica di Catanzaro, un magistrato, uno di quegli eroi civici che si è soliti chiamare magistrati antimafia. Un esempio di come la battaglia delle istituzioni, lo diceva anche Pocazzi il nostro sindaco, di come la battaglia delle istituzioni si astelle se non è accompagnata da una riflessione culturale, se non è accompagnata da un movimento profondo del dominio repubblico perché tutte le mafie crescono nel silenzio, nella paura, nella sfiducia dei cittadini. Se i cittadini sono forti le mafie diventano automaticamente deboli. Vorrei dire che questo libro che ha la firma di Nicola Gratteri e di Antonio Di Caso che è il collaboratore, la persona con cui Gratteri ha firmato la quasi totalità dei suoi volumi è innanzitutto un grande atto di amore per il sud, l'atto d'amore di un calabrese per la Calabria per il mezzogiorno e lo dico perché molto spesso anche dalle nostre parti c'è l'equivoco che denunciare l'infiltrazione mafiosa, parlare del pericolo mafioso sia quasi una diffamazione, sia quasi uno sminuire, un rendere più debole, meno orgogliosa l'appartenenza meridionale. E' vero, esattamente il contrario, i nemici del mezzogiorno, i nemici del sud, i nemici delle nostre tradizioni sono i mafiosi, non coloro che li combattono. Parleremo penso anche fra poco del tema della quarta mafia come viene chiamata, cioè della mafia galganica, però io vorrei dire dall'andrangheta che è stato il nemico che li ha combattuto con maggior vigore per forse la sua esperienza. L'andrangheta che rispetto alla mafia, alla gomorra, alle altre tristemente note forme di criminalità organizzate è forse la più misteriosa. Le manca anche quella narrazione, non c'è la piovra o gomorra dell'andrangheta. perché è più oscura? Ma intanto è una mafia che ha saputo bene rimanere sotto traccia, perché la filosofia dell'andrangheta è stata sempre quella di trovare un punto di contatto con l'uomo delle istituzioni. Ha ucciso quando era assolutamente necessario uccidere, ovviamente nel corso della sua storia degli errori li ha fatti. E l'errore più macroscopico è stata la strada G2, dove sono stati uccisi nel 2007 sei persone. Quello è stato un errore, ma si trattava di una faida, non di una strategia criminale. Le faide, come sapete, perché anche a cui siete interessati è un problema che riguarda due gruppi all'interno della stessa locale, all'interno della stessa struttura. E quindi quando ci sono le faide saltano tutte le regole, saltano tutti i codici della magia che si erano scritti, che si erano imposti. L'andrangheta, cioè noi per scrivere arrivo la risposta. Noi abbiamo scritto questo libro perché in quelli precedenti noi fermavamo che le macchie nascono con l'unitarietà, però non riuscivamo dal punto di vista scientifico a trovare il riscontro documentale. E siamo studiando, partendo dall'archivio di Stato di Reggio Calabria, studiando gli atti che hanno portato allo scioglimento del Comune di Reggio Calabria, pensate nel 1869, non nel 1869. pensate allora non c'era la legge, non c'era il riato di istituzione di incoherenza a Buonavio, non c'era la legge per lo scioglimento del Comune. Quindi pensate il prefetto è stato costretto a sciogliere il Consiglio Comunale, annullare le lezioni del Consiglio Comunale, tali e tanti librogli. Ma perché ci sono stati tanti librogli? E poi l'altra domanda che ci siamo posti. Perché nell'Ottocento in tutta Europa c'erano i madri di polli? In Inghilterra, in Germania, in Francia, in Olanda. E perché questi ladri di polli in Europa sono rimasti dei ladri di polli, mentre in Italia sono trasformati in mafie? Cosa è accaduto? Quali sono state le concause? È la causa principale. Questa risposta l'abbiamo trovata appunto nello studio delle lezioni comunali del 69, 1869. Cosa era accaduto? C'erano due liste. Una era appoggiata dai Borboni e dalla Chiesa. Un'altra era appoggiata dai latifondisti, dall'aristocrazia, dall'alta borghesia. I latifondisti hanno assoldato un picciotto, tale Francesco De Stefano, avo degli attuali di Stefano che comandano Regio Grande. Cosa era accaduto? Lo hanno pagato per fare atti di vessazione, di minacce, di violenze nei confronti dei candidati della lista appoggiata dalla Chiesa e dalla Chiesa dei Borboni. Sono stati tali e tanti questi brogni coinvolgendo anche il questore dell'epoca che arrestava, ha fatto ricarcerazioni preventive mirate di persone che sapeva votare per la lista appoggiata dalla Chiesa dei Borboni. A quel punto è così evidenti i broglie, le vessazioni, le minacce, gli attentati, che il prefetto è stato costretto a sciogliere le azioni. Allora, se voi pensate, l'aristocrazia, il latifondista ha dato legittimazione dalla picciotteria. Cioè li ha messi su un piristaglio, gli ha dato il pedigree che gli mancava. Quando nel latifondo questi picciotti rubavano quattro buche, il massaro, il capelloto, sarebbe l'attuale amministratore delegato di un'azienda, anziché rivolgersi a reali carabinieri per contrastare, per vedere e capire chi aveva rubato questi vitelli, si rivolgeva al picciotto. In una sorta di recita e di mediazione, il picciotto gli faceva trovare tre mucche e una se la mangiavano. In questo gioco, in questo teatrino, ci avevano guadagnato tutti, perché il latifondista piange con un occhio perché ha perso solo una mucca. Il massaro, il capelloto, ha recuperato un po' come credibilità con l'immagine, il picciotto ci ha guadagnato perché si ha mangiato una mucca, ma nello stesso tempo ha innestato il rapporto, una relazione con il massaro e quindi con il latifondista, quindi sempre più questo riconoscimento. È un crescendo, perché se voi pensate, quindi, l'aristocrazia il latifondista partorisce un mostro, cioè partorisce la picciotteria quella che poi diventerà la macchia. Questo mostro, questo figlio mostro nato, a distanza di un secolo, esattamente negli anni 80, incomincia con una stagione di seguessi di persona a sequestrare appartenenti alla classe aristocratica, appartenenti al latifondo. Quindi il figlio mostro partorito mangia la mamma che lo ha partorito e i latifondisti sono stati costretti a svendere i latifondi, i farmacisti a svendere le farmacie, mandare i figli all'estate a Roma in su, svendere quello che potevano per evitare di essere poi sequestrati e si sono andati trappiantati nel Lazio, in Toscana, in Emilia Romagna, per sfuggire a sequestri di un salto. Ecco, l'idea fatto cenno alla strage di Guisburg dieci anni fa che ha rappresentato il momento pulmine, l'atto più violento compiuto dalle organizzazioni cliniche italiane all'estero di Germania, sono ancora sotto shock per l'accaduto. Il livello di organizzazione necessario significa che lungo le vie dell'immigrazione, le indrine hanno costruito il loro potere, cioè insieme a questi nobili che si sono trasferiti al nord, sono arrivate anche le colonie dei Picciotti? Sì, sì, però stiamo attenti a non fare l'equazione emigrazione mafia, perché se no c'è il gioco di chi in questo momento è in malafede. I Picciotti sono emigrati anche negli Stati Uniti, sono stati a New York, in Canada, a Toronto, a Montreal, in Germania, e i Picciotti hanno incominciato a imporre la mazzetta agli emigranti che arrivano attività commerciale, attività economica. Però attenzione a non confondere quello che è successo da 40 anni, 50 anni in Piemonte, in Lombardia, da 30 anni in Emilia Romagna. Perché vi faccio un esempio concreto in Emilia Romagna, della provincia di Reggio Emilia. Noi dieci anni fa siamo andati col professore di caso in provincia di Reggio Emilia e a Reggio Emilia a parlare in Draghi Emilia Romagna. Dicendo, nella serie di Coppa Industria, di Coppa Artigianata, di Coppa Agricoltura, alla presenza di molti parlamentari, di molti politici, attenzione qui c'è la Draghi di Coppa Artigianata. Ci hanno assalito, ci hanno aggredito, ci hanno mangiato la testa, dicendo come vi permettete, qui non ci sono le mafie. Noi abbiamo combattuto il fascismo, noi abbiamo combattuto il nazismo, noi abbiamo gli anticorpi per combattere le mafie. gli ho detto, ma guarda che l'ombardista, il camorrista, non viene con la divisa e la svastica, è un'altra cosa. Non viene ad uccidersi, ad eliminarsi fisicamente. Viene a fare business, viene con la faccia buona, viene l'ombardista e ti offre beni e servizi a prezzi stracciati. Cioè, tu l'imprenditore emiliano, sinora, hai costruito palazzi, strade, scuole, fornendoti sempre da decenni, dai grossisti. A un certo punto arriva l'imprenditore dell'Andraga, l'imprenditore della Camorra e ti offre lo stesso servizio con un ribasso del 30%. Tu non puoi, tu l'imprenditore del nord, non puoi dire di essere buona fede. Perché tu conosci il mercato, sai che saltano le regole del libero mercato, in questo modo, crei un sistema, quindi è drogato, viziato, e quindi la libera concorrenza salta. E allora non possiamo parlare quindi di buona fede dell'imprenditore del nord. L'imprenditore del nord non è in buona fede, è perfettamente cosciente che sta avendo a che fare con un mafioso, perché solo le mafie sono in grado di offrire servizi apprese da già, cioè mano d'opera con un ribasso del 30% vuol dire mano d'opera non assicurata o sottopagata, smaltimento dei rifiuti quindi che verrà fatto in discariche non autorizzate, fornitura di carcestruzzo depotenziato, quindi dovere la buona fede dell'imprenditore del nord. La dragheda è stata colpevolmente sottovalutata dai magistrati, dalle forze dell'ordine, dalla politica, dal legislatore, da tutti coloro i quali, dalla Chiesa, da tutti coloro i quali avevano il potere e il dovere di intervenire, non l'hanno fatto colpevolmente. Dice, ma io non l'ho capito. No, allora sei in idonea che funziona. E visto che hai sbagliato, almeno metti a provare e fai provare l'altro. Se possono capire, se si è in buona fede, altrimenti devo pensare la mafia. Sì, questo ragionamento, che è molto ben sviluppato anche, del peculiare rapporto che si stabilisce con l'inserimento del sistema mafioso nell'economia legale, diventa particolarmente pernicioso nei periodi di crisi e per le aziende in crisi, no? Perché lei descrive molto bene il fenomeno per cui all'imprenditore che si trova in difficoltà la mafia si presenta addirittura come soggetto, un premolo, no? Come un alleato. Sì, infatti, ovviamente in questi ultimi decenni, i cretori mafiosi hanno fatto man bassa, hanno comprato tutto ciò che era in vendita, prezzi scontatissimi. Cosa, dove voglio andare a parare? Spesso vengono da me delle persone che sono già alla canna del gas, no? Persone usurate, spremute come un limone, che le hanno provate tutte. Sono andate dagli incertamenti che hanno più sull'impinente, sono andati dalle banche e gli hanno più sull'impinente, e ma non si vogliono rassegnare a far vivere. E quindi si rivolgono agli usuali che in quel senso sono legati alle proprietà volenziali. Io consiglio sempre agli increditori di far vivere. Se tu perdisci hai la possibilità di ricominciare, se tu pensi invece di rivolgerti agli usurai che risolvi il tuo problema, sta all'inizio della tua fine. Perché se ti rivolgi, facciamo un esempio, mettiamo il caso in cui l'imprenditore si rivolge ad un usurai e gli chiede 100 mila euro. Intanto l'usuraio più mafioso è, meno bisogno di garanzia, quindi lascia meno traccia. E' l'usuraio della porta accanto, che vuole cambiare, che vuole strutture private, che vuole il compromesso per la rendita di un appartamento, di un garage. L'usuraio mafioso non ha bisogno di tutte queste garanzie, quindi poi se si arriva alla denuncia non ci sono tradici. E allora l'usuraio mafioso, io mi rivolgo a l'usuraio mafioso, mi presta 100 mila euro. Io era da tempo che non vedevo tutti quei soldi. Mi rianimo, vado subito attraverso il mio avvocato alla cancelleria parlamentare, pago i creditori e i loro avvocati ritirano la stanza di parlamento alla cancelleria parlamentare. Pago gli altri debitori, abbellisco un po' il locale e riparto. Sono eccitato, contento, cammino mezzo metro da terra perché penso di farcela. Dopo un poco di mesi mi accorgo che quello che guadagno mi basta solo per pagare gli interessi sull'aria. E allora inizia il percorso di una strada senza fine, senza ritorno. e cioè incominciano le minacce, le vessazioni, vengono elettrodomestici, vengono due giovanotti e si portano un televisore al plasma, poi si portano il frigorifero, una lavatrice e incominciano le telefonate a casa alle due di notte, svegliano la moglie, i bambini, telefonano a casa quando sanno che il merito non c'è per terrorizzare i figli, per terrorizzare la moglie. E quindi inizia questo travaglio all'interno della famiglia e queste lotte, queste guerre con la moglie e con i bambini, con le figlie e con i figli. E quindi si incrina il rapporto al punto che finisce finisce non solo l'amore o il bene, ma addirittura il rapporto di disistima, perché il padre è come un pugile suonato. Non è un uomo, non è un padre, è un erbite, è uno che cammina, che è stordito alle 10 di mattina, non sa dove, che pesce pigliare. È distrutto sul piano psicologico. Quindi ha perso la famiglia e ha perso anche l'immobile, perché questo immobile gli sarà rilevato, sarà venduto ad un prestanome di un dranghetista, di un cavorrista, di uno del poggiano. E spesso voi vedete l'ex proprietario che lavora nel negozio come dipendente. Quella è la controfirma dell'apporto usurale. Quindi voi immaginate che il periodo di umiliazione viverà quest'uomo per il resto della storia. Quindi rivolgisci agli usurari che non viene. E allora bisogna stare attenti a prevenire questi dati. E quindi bisogna sempre, continuamente, non chiudersi, consigliarsi, aprirsi, parlare. E rivolgisci alle forze dell'ordine. Non stare mai soli, parlare. Stare in silenzio, stare muti e tenersi tutto dentro non serve. Questo non serve mai, in genere, per nessuna cosa. C'è sempre aprirsi, consigliarsi, farsi coraggio assieme. Mai stare da soli. Sì, credo che, non so se anche voi avete avuto dei prividi nel racconto, nell'ascoltare il racconto di questa discesa agli inferi. Credo che si debba, sia in poderoso, far donare che a volte la spinta per questa discesa agli inferi, non sempre inconsapevole, viene proprio dal sistema del credito. Abbiamo avuto più di una vicenda, parlo di cose che tutti voi conoscete benissimo, di persone che a un certo punto si sono trovate repentinamente espulse dal meccanismo del credito legale e quindi sono andate con maggiore facilità. Però il consiglio del Dottor Graferi, posso assicurare, è davvero l'unica strada da seguire è, in generale, rispetto a quando si viene sfiorati dal contatto mafioso, ma cosa migliore è parlare. Io non approfitto di questo tema per chiederle. Un parere so che lei, essendo rigoroso, non parla mai per sentito dire, parla solo delle cose che conosce anche per esperienza diretta. Però penso di poterle chiedere un giudizio su quella che viene chiamata la quarta mafia, la mafia pugliese e in particolare la mafia del nord della Puglia, le cose che faceva riferimento il sindaco. Che fenomeno è e quanto è pericoloso? Io non sono un esperto della mafia pugliese, però per quello che sono state le mie indagini, il processo di inquinamento e di accelerazione purtroppo allora si è avuto anche con le supercarceri di Trani e di Bari. Io ricordo, decenni fa, molti indagini visti erano detenuti a Trani. e in quel carcere l'Andrangheta ha dato le regole per creare la Sagra Fora Unita. Se voi andate a studiare i due fenomeni vedete che le regole sono uguali. E quindi c'è stato questo ulteriore processo di inquinamento. Qui in provincia di Foggia, per quello che sono le mie letture, i miei studi, ma ripeto non sono un esperto e quindi non mi prendete però lo colato di quello che sto dicendo, c'è una mafia molto forte, molto violenta. Forse è la più violenta di tutta la regione. E secondo me se ne parla poco. Se se ne parla poco è un problema. Quando non si parla, quando non si scrive, non si prendono proprio di me. Cioè la mia storia di 30 anni di magistrato riporta a dire che il potere politico, il governo, i governi si muovono per un territorio solo quando, almeno per due o tre giorni, la notizia deve campeggiare sulle prime pagine di due o tre quotidiane nazionali, o quando c'è un minuto e mezzo a digiuno. Altrimenti nessuno si muove. Quindi è importante, se voi capite che c'è un... non è che voglio fare il capopopolo, ma se voi capite che c'è un problema, questo cosa devo far denunciare. Quindi intanto vi dico di guardare, di studiare il comportamento di carabinieri, poliziotti e finanziari. Cosa voglio dire? Io invito sempre a denunciare. Voi dovete avere denuncia nelle forze dell'ordine. Non c'è scanto, non c'è alternativa. Dice, mi rivolgo al mafioso X, Y o Z per il suo problema. No. Diventerete schiavi di quel sistema. Voi dovete ridurre le forze dell'ordine. Il 99% degli uomini delle forze dell'ordine sono persone oneste per lei. Ovviamente ci sono i corrotti, ci sono stati, ci sono e ci saranno nella magistratura, nei carabinieri, qualsiasi la finanza. Ma sono fenomeni molto rari. però basta che sia un corrotto uno su cento, quell'uno ne autorizza il lavoro degli altri 99 e torniamo come credibilità indietro di già su un territorio. Quindi purtroppo sono cose molto tristi, sono cose devastanti che ci turbono tantissimo e ci carichano come le sveglie però. A scogliarlo vivo senza anestesia voi. Però bisogna denunciare. Ma non così padre denuncio, no? Perché voi quando andate a denunciare mettete la vostra vita nelle nostre mani. Quindi quando io vado alla scuola di poesie, quando vado alla scuola di perforze per spiegare le tecniche di indagine, parlare di macchio, parlare di… io parlo sempre, mi dedico uno spazio. Oltre che parlare delle tecniche di indagine, del codice di presenza penale, del codice penale, voglio parlare dieci minuti di ideologia. E dico sempre carabiniere, poliziotte, finanziere, la polizia più penziaria, quelli che erano fino a poco giorni fa di forestale, dico attenzione. Voi non solo dovete essere onesti, ma anche a pari di età, non c'è che si deve guidare di voi. Cioè il carabiniere sbirro 24 ore al giorno. Non esiste che il tempo finisci di lavorare e poi se ne vai da quello che vuole, no? Perché tu non conosci tutti, ma tutti conoscono te. Quindi anche quando ti vai a mangiare la pizza, come ti fai in bagno la gente ti studia. E allora devi stare attento con te, anche nella vita privata. Allora sta a noi come un'istituzione che fa vincere. Io ho il problema contrario dietro la mia porta ogni mattina. Sono 20-30 persone che vengono a denunciare. E io devo convincentare, c'è la mia segretaria, c'è la mia scorta che fanno degli orari, che so, dalle 8 di mattina alle 10 oppure dalle 11 alle 15, 10 minuti di tempo ogni persona che viene a denunciare. Quindi poi è smisto come un vingio urbano in un incrocio. Questa notizia devono la polizia, questa dei carabinieri. E a piante un'altra stanza c'è il colonnello dei carabinieri, c'è il colonnello della guardia di finanza, c'è il commissario a cui la gente che non vuole denunciare vuole solo dare informazione a noi. E quindi, siccome la polizia incidenziale può avere informatori, se ne vanno alla stanza a fianco e questi si confessano. Cioè mettono la loro vita nelle mani del colonnello dei carabinieri. Quindi il colonnello che cambia in queste persone mi riduce. che sono responsabili del comportamento del colonnello dei carabinieri, se quello poi tradisce. E allora è importante che noi, uomini delle istituzioni, dobbiamo essere assolutamente corretti. Non solo essere onesti, ma anche a perdita. E la gente viene, se vi sa credibili, perché la gente vi studia, vi pesa. Ricordatevi che la gente non è un'altra cosa. La gente ha bisogno di parlare, ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di aiuto. E noi dobbiamo essere pronti, non a parole, non con i manifesti, non con i calendari, con i fatti, concretamente con i comportamenti. Perché dico ai futuri comandanti, che è un corso per allontanamenti colonnelli, che deve essere un colonnello, gli dice questo. Dico, attenzione, se dietro la vostra porta la mattina non bussa nessuno, voi siete dei falliti, vuol dire che non state facendo bene il vostro lavoro, vuol dire che non siete credibili, vuol dire che non vi state comportando bene. E quindi questo è un campanile dell'arte. La misura della credibilità o meno di una persona non si vede dalle manifestazioni o dai premi che in estate gli danno i comuni molte volte per piageria o per cattazio e per le vorenze. Si vede dalle persone che vengono a bussare per venunciare. Grazie. Da parte mia posso aggiungere solo una cosa. I fatti, la storia di quello che accade in questa provincia dimostrano che alle posizioni dei cittadini alle denunce non segue nulla, seguono delle indagini accurate, dei processi, delle sentenze. Perché poi la legalità si difende, credo che il dottor Gattieri sarà d'accordo con me, si difende quando si dimostra ai cittadini e quindi l'effettività della legge, il fatto che poi in lo Stato gli poteri pubblici internavano. Non mi pare che in Capitanata succeda con buona frequenza e questo è un ulteriore motivo, un ulteriore incoraggiamento a denunciare. Abbiamo pochissimi minuti, dottor Gattieri, perché Massimiliano Genù deve iniziare i nostri spettatori. Poi io voglio chiederle cortesemente in due minuti, siccome lei presiede un organismo che è stato nominato dal precedente governo, alla guida di un organismo per formulare suggerimenti e proposte su come migliorare la nostra attrezzatura anti-mafiosa, lei ha fatto un grande lavoro, ci vuol dire in ordine di priorità quali sono i provvedimenti che ritiene più urgenti? Necessito un chiarimento. Io sono stato nominato e ho accettato per agliutamente a luglio 2014, fino al 30 dicembre 2014, di fare un articolato di legge, di fare delle modifiche normative sulla legislazione anti-mafia. Io ho accettato per agliutamente perché mi è stata data la possibilità di scegliere i componenti della Commissione e ho dato delle priorità, cioè ho detto ai componenti della Commissione che dobbiamo modificare, fare delle riforme in superficie, cioè modificare l'odio per vedere l'effetto che fa. Poi se queste riforme vanno a buon fine, poi faremo un'altra commissione in profondità. Abbiamo modificato l'odio, ci siamo dati nella regola, cioè di inserire l'informatica disponibile nel 2014 al processo penale, perché l'informatica abbatte i tempi del processo, i costi del processo e il potere iscrizione dell'uomo, di fare delle modifiche tale da non diventare ancora conveniente delinquere e di non abbassare il livello di garanzia dell'indagato e del diputato. Dateci questa regola abbiamo fatto tante riforme, tante modifiche. Ad esempio, i processi si... perché si prescrivono i processi? I processi si prescrivono perché non si celebrano e perché non si celebrano? Perché i processi che non sono sempre dei tempi vanno avanti di invio e di invio. Faccio l'esempio più ovvio è quello quando un componente del collegio viene trasferito da Reggio Calabria o da Foggia a Milano e il processo comincia dal capo. Quindi se noi abbiamo già ascoltato 40 testimoni e dobbiamo risentire questi testimoni, quindi a parte i costi che da Milano deve scendere a Foggia, il testimone, quindi albergo, ristorante, aereo o treno e poi il tempo passa. Allora noi abbiamo pensato alla videoregistrazione, cioè registrare e filmare il video di questa persona, che è il testimone che noi ascoltiamo, il test di uno dei tre giudici che ha preso il posto e trasferito va e si vede il video e il processo va avanti. Abbiamo pensato alla videoconferenza per i detenuti alta sicurezza e media sicurezza. Con questo vuol dire che i processi iniziano puntualmente alle 9, non bisogna aspettare il furgone che magari si è rotto per strada, oppure quando in processo si celebra a Catania, a Palermo, e i detenuti da Tormezzo, devono partire un furgone da Tormezzo all'aeroporto di Venezia o di Verona, poi sull'aereo cinque uomini a presa cominciare, lo accompagnano a Catania, poi un altro furgone da Catania lo porta a carcere in Bicocca, dal Bicocca lo porta il giorno dopo al tribunale di Piazza Verde a Catania. Voi immaginate quanti costi, il rischio di evasione, e quando 30-40 detenuti stavano nella stessa gabbia e tra di loro fanno accordi e mandano anche messaggi di morte certe volte con qualche avvocato infedele. Può anche succedere questo. E allora noi abbiamo pensato alla videoconferenza per tutte queste tipologie di carceri. Allora con la videoconferenza noi avremmo il risparmio di 10.000 uomini della Polizia Petruziaria, ogni giorno sono impegnati per traduzione e trasferimento, 10.000. Quindi questi 10.000 uomini potremmo utilizzare per fare trattamento nelle carceri. risparmieremmo 60 milioni di euro l'anno. Voi immaginate con 70 milioni di euro l'anno quanti cancellieri, segretari potremmo assumere, quanti uomini della Polizia Petruziaria potremmo assumere. Questi sono solo due articoli del Codice del Proccio Operario che abbiamo modificato. In tutto ne abbiamo modificato 150. Pensate quante costi potevano fare. Purtroppo la storia ci insegna qualche modifica che è passata alla Camera e ora è ferma al Senato. perché la storia ci insegna che intanto in Parlamento non ci sono le maggioranze forti per far passare queste cose ovvie banali, ovvie. E la storia ci insegna cos'altro? Che chiunque ha il potere non vuole un sistema di giudiziare forte perché il manovratore non vuole essere controdato. Grazie. Questo applauso penso di poterlo interpretare come il senso di gratitudine che gli italiani onesti e gli italiani per bene hanno nei confronti di persone come Nicola Grattelli, animati, come vedete, da molto senso del dovere, da un'idea alta della propria funzione e del proprio lavoro, ma anche del comune buon senso, del fatto che non si tratta di combattere poteri imbattiti, si tratta di fare delle cose di normale buon senso con cui possiamo combattere questa battaglia non per testimonianza, ma per vincere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.